La discarica abusiva rimane lì in bella vista, l'ingresso del centro polifunzionale di San Filippo e col trascorrere dei giorni aumenta di volume e così il quadro desolante dell'incompiuta si completa con l'immagine di rifiuti derivanti dai lavori edili abbandonati a pochi metri dalla struttura che sorge in prossimità dello svincolo di San Filippo. La discarica è stata segnalata ancora una volta dai consiglieri del secondo quartiere Francesco Gallo e Gian Piero Terranova. Il 27 giugno avevamo mostrato questo ennesimo simbolo di inciviltà in un nostro servizio dedicato al centro ultimato nel 2003 e mai inaugurato. Nessun intervento da allora da parte del Comune, segnale purtroppo incoraggiante per chi abbandona rifiuti in città ed infatti altro materiale è stato scaricato. Ed oltre alla pulizia si attende che la clamorosa incompiuta realizzata dall'Istituto Autonomo Case Popolari diventi finalmente il centro di urno per anziani diversamente abili che il Comune ha intenzione di realizzare. Finanziamento disponibile, circa un milione di euro, non rimane che mettersi al lavoro per consegnare alla città questa struttura prima che gli incivili abbiano la meglio trasformando la zona dove sorge in discarica.